amici del canale buonasera allora breve video perché breve sarà sulla serie c perché non ha avuto tempo di guardare partiti highlights ribadisco ancora una volta le scuse per questo weekend perché ragà e io sto conduce io e tanti altri youtuber juventini tranne qualcuno vabbè che di juventino oramai ha ben poco stiamo conducendo una battaglia quindi abbiate pazienza per stavolta tant'è vero che stasera sto guardando bayern monaco colonia dalla serie a non guardo più un cazzo tranne la juventus allora serie c serie c cosa è successo sarà un video più breve ripeto perché non ho molto seguito ho visto i risultati ho visto onestamente sembra essere cambiato poco nel girone a continua praticamente una lotta appassionante fra tre quattro squadre pordenone ferralpi vicenza che io reputo la favorita per il salto in serie c in serie b e renate che sta provando a inserirsi per quanto riguarda la zona bassa della classifica il girone a è cambiato poco e nulla sta risalendo non ho notato che sta risalendo posizioni padova sta risalendo posizioni il padova dopo un girone d'andata di poco disastroso ricordiamo che il padova era la grande forse la grande favorita di questo girone a è incappato in un periodo disastroso c'è stato se non sbaglio il cambio di allenatore ora è in piena lotta per raggiungere la zona playoff la zona b per me è difficile è difficile anche se avanti non è che corrono è il punteggio è il girone con dove ai primi posti con la media punti più bassa diciamo a differenza degli altri due diciamo che almeno in zona playoff il padova dovrebbe riuscire a rientrare poi non si sa mai non si sa mai nel girone b la reggiana continua la sua marcia verso la serie b oramai ha acquisito una certa regolarità cesena e dentella sono alle sue spalle mentre oramai è crollato il gubbio che dopo un ottimo girone d'andata sembra essere crollato battuto dall'ancona in casa ancora in gran forma ma ribadisco in questo girone la reggiana la fa da padrone mi sa che ha vinto 3 a 2 con la versante ora correggetemi se sbaglio una partita difficile una partita sporca e quando si vincono queste partite si vincono i campionati e penso che oramai la serie b non dico che sia addirittura d'arrivo per la reggiana ma sembra ben sembra ben avviata ora non so come messa scontri diretti nel senso so per certo che giocherà cesena in col cesena giocherà in trasferta e se non sbaglio è in casa con l'entella forse non ricordo se hanno giocato in casa fuori casa con l'entella ma io nell'entella non è che ci creda molto a dire la verità il cesena l'unica che può contrastare la reggiana l'unico si è partita magari l'avvio non è stato dei migliori oddio poi se mi perdi anche punti in casa con la fermana o la gala fermana che lotta per salvarsi anche se adesso è risalita un po in classifica la fermana in pratica ha concesso un solo punto al cesena la vittoria a fermo l'andata e il pareggio in casa ho visto il gol della fermana ragà una roba comica e vabbè sono cose che la serie c è questa vedi queste cose poi vedi anche grandissime giocate e poi veniamo al al girone c dove oramai cioè se per la reggiana è bene è ben avviata il catanzaro oramai non è questione di sé ma questione di quanto la promozione sarà matematica il crotone pareggia in casa della monterosi il crotone soggetto a passi falsi perché perché una squadra perché una squadra che non fa molti gol nonostante abbia ottimi grandi giocatori fuori categoria per la serie c io ho sempre detto che a questo punto mi auguro che salgano entrambe perché anche se in genere ai playoff qualche sorpresa c'è sempre il catanzaro ora più 8 ma ormai il catanzaro fa un altro sport fa completamente un altro sport nettamente la squadra più forte della serie c nettamente cioè questa squadra in serie b per me lotterebbe nelle posizioni di vertice per me lotterebbe per le posizioni di vertice in serie in serie b il catanzaro raga altri quattro gol a cerignola cerignola che alla all'andata è stata una delle pochissime squadre a mettere in crisi il catanzaro l'audace cerignola ricordo benissimo che il catanzaro l'ha ripresa nel recupero che era sotto l'ha ripresa negli ultimi minuti di recupero il 2 a 2 con un colpo di testa mi sa di jemmello non ricordo di chi jemmello che ha fatto due gol ha fatto un gestaccio vabbè ennesimo a partitaccia di vante putte raga io vado matto per quel cazzo di giocatore è troppo forte dovessimo salire in c scriverò preso il gilio barletta scriverò al mio presidente di prendere gli arrivante putte raga è una cosa allucinante è troppo forte è troppo 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 forte poi vabbè jemmello biacci di che cazzo curcio di che cazzo stiamo parlando stiamo parlando fulignati in porta che ha giocato in serie a col palermo se non sbaglio di che cazzo stiamo parlando stiamo parlando di una di un bulldozer contro delle macchinine e giocattolo no è roba veramente incredibile volevo spendere intanto segnalo il ritorno alla vittoria del pescara sulla vita abese volevo spendere due parole sulla zona bassa della classifica è sulla risalita del messina vedete cosa cazzo fa il mercato di gennaio vedete io sono contrario al mercato di gennaio una volta c'era la riparazione ad ottobre stop al massimo a novembre è stop è stop cioè questi praticamente hanno rifatto la squadra il messina che le buscava da chiunque adesso sta vincendo sempre cioè io a questo punto il messina per il messina che sembrava spacciato completamente spacciato cioè la salvezza diretta non è mica tanto una chi vera è perché per come l'hanno presa ragazzi questi intanto parataccia del portiere del colonia su thomas muller per la cronaca il colonia in vantaggio 1 a 0 in casa del bayern monaco cioè e niente dicevo questo cazzo di messina veramente viaggia a ritmi promozione negli altri gironi chiaramente negli altri gironi sta viaggiando a ritmi promozione a ritmi promozione diretta naturalmente parlare di ritmi promozione nel giro recci veramente cioè ma di che cazzo stiamo parlando cioè di una squadra il catanzaro che ha 60 punti a 60 punti cioè in poco più di 23 partite 60 punti cioè stiamo parlando di una squadra che secondo me se a promozione acquisita perché oramai ripeto non si tratta di sé ma di quando se a promozione acquisita questi continuano a giocare così cioè questi oltrepassano i 100 punti tranquillamente va bene ragazzi prometto di le prossime settimane di fare un video un po più approfondito di quello che ho fatto oggi perdonatemi ancora una volta per questa settimana che è stata un po così vedrò di dare un'occhiata agli highlights della liga parlerò della liga anche intanto c'è il colonia in contropiede niente nulla di fatto iscrivetevi al canale grazie